Musica Secondo la Premier italiana Giorgia Meloni le motivazioni alla base della procedura di infrazione dell'UE contro l'Italia sono surreali. Giovedì scorso la Commissione europea ha annunciato l'abbio di un'azione legale contro l'Italia accusando Roma di discriminare i migranti dell'UE che non hanno diritto agli assegni familiari. Secondo la legge approvata nel 2022 i lavoratori che non vivono in Italia da almeno due anni o i cui figli non risiedono nel paese non possono beneficiare della misura. Siamo quasi al di fuori delle competenze caratteristiche dell'Unione. Ogni paese deve fare i conti con le risorse a disposizione. Noi siamo fra i primi tre paesi più indebitati nel senso con il rapporto debito più il peggiore dell'Unione e con quello dobbiamo far conto. Non possiamo paragonarci alla Francia, alla Germania, ad altri grandi paesi fondatori che hanno capacità di indebitamento, capacità di spesa diverse dalle nostre. Il governo ha aumentato le risorse di 3 miliardi di euro per sostenere il sistema degli assegni familiari, noto anche come assegno unico, ma ha sottolineato Meloni l'Italia non può permettersi di investire più di quanto abbia già fatto. La misura è al centro degli sforzi del governo per rilanciare il calo della natalità in Italia. Il governo non ha risposto in modo sufficiente alle preoccupazioni della Commissione espresse nel 2023. Il caso è stato deferito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Venezia ha annunciato nuovi limiti alle dimensioni dei gruppi turistici. Si tratta dell'ultima mossa per ridurre la pressione del turismo di massa. Dall'inizio di agosto i gruppi saranno limitati a 25 persone e sarà vietato alle guide turistiche l'uso di altoparlanti. I bambini sotto i due anni sono esclusi dalla limitazione. La funzionaria comunale incaricata della sicurezza, Elisabetta Pesce, ha dichiarato che le politiche mirano a migliorare la circolazione dei gruppi turistici nel centro storico di Venezia e nelle isole circostanti. L'UNESCO ha preso in considerazione per due volte la possibilità di inserire Venezia nella lista dei siti del patrimonio in pericolo, citando l'impatto del turismo sulla città come una delle motivazioni principali. In precedenza la città aveva anche annunciato l'intenzione di testare una nuova tassa giornaliera di 5 euro a persona per i visitatori. La misura è stata applicata in 29 giorni di punta tra aprile e metà luglio, compresi la maggior parte dei fine settimana. Oltre 100 carabinieri stanno dando esecuzione nella provincia di Catania e in quella di Agrigento un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania. Su richiesta di questa di Diani confronti di 13 soggetti indagati a vario titolo in quanto presunti autori dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è frutto di un'indagine avviata nel maggio dello scorso anno, coordinata dalla Procura Distrittuale di Catania e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nel corso della quale già nello scorso mese di dicembre 2023 si procedeva al fermo di indiziato di diritto a carico di nove soggetti legati anche da vincoli di parentela ad esponenti di vertice della famiglia Santa Paola e Alcolano, sul conto dei quali emergevano i gravi indizi della pianificazione in stadio avanzato di un attentato omicidario ai danni di Ghagliano e Pietro ad opera di alcuni personaggi di spicco dell'associazione mafiosa Santa Paola e Alcolano. In particolare il progetto è sempre stato originato da quanto accaduto la sera del 21 ottobre 2023 nella zona del Passarello, quartiere San Cristoforo, ove all'esito di una discussione tra appartenenti ai città di Sodalizzi, Ghagliano e Pietro e Salvatore avrebbero esploso quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo di appartenenti alla famiglia di Cosa Nostra Catanesi. Due di questi ultimi rimasti illesi si sarebbero immediatamente determinati a porre in essi una vendetta armata al fine di punire l'affronto subito, nonostante indicazioni di segno contrario provenienti da altri esponenti del Sodalizzi investigato. Oggi si apre il viadotto in ritiro, un'opera imponente di 900 metri di lunghezza, un'opera costata 60 milioni, dopodiché giorno 9 verrà riaperta entrambe le carreggiate dall'altro senso di marcia, quindi il sistema a ritiro sarà completato dopo 27 anni di attesa. In questi primi 20 mesi il governo Schifani è stato in prima linea per il monitoraggio dei centinaia cantieri in Sicilia, in primis sulla Palermo Catania dove lo stesso presidente della regione Renato Schifani è commissario di governo dove i frutti del suo controllo si stanno vedendo quotidianamente. E lo stesso stiamo praticando sulla Palermo Agrigento, opera che ci siamo presi l'impegno di inaugurare o comunque aprire e chiudere tutti i cantieri già a dicembre di quest'anno. E oggi siamo anche su viadotto in ritiro, un'opera che comunque doveva essere aperta qualche mese fa e comunque c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi per dare la possibilità ai tanti fruttori di questa infrastruttura di poterne godere già prima dell'inizio della settimana di Ferragosto. Oggi vogliamo ricordare anche i numerosi morti nei cantieri, non soltanto siciliani ma di tutto il mondo. E proprio nel 2021 c'è stato un operaio che ha perso la vita durante la costruzione di questo imponente viadotto che si chiama Salvatore Rada, a lui va un nostro pensiero, lui e i familiari, a tutti i colori che escono ogni giorno per far sì che le infrastrutture possono andare avanti e rischiano anche la vita. Ci troviamo qui all'Istituto De Felice Olivetti, dirigente scolastica, professoressa e ingegnere Anna De Francesco che ha voluto fortemente oggi questo evento, che è il premio giornalistico The Voice a Strea e ha giunto alla quinta edizione abbiamo avuto questo momento di sinergia e di incontro tra istituzioni anche e ragazze e studenti. Sì, oggi è rimasta una giornata molto importante e sono contenta e sono contenta soprattutto degli argomenti che abbiamo trattato che sono quelli dell'inclusione, di attività, di impegno civile per questi ragazzi sia dal punto di vista della salute, della violenza di genere, dell'inclusione che sono temi fondamentali per diventare cittadini di domani. Come Rotariani appartenenti a questo gruppo di lavoro con l'interesse per il mare stiamo portando avanti un progetto di inclusione sociale rivolto a tutti gli studenti delle scuole e della città di Catania. È un progetto che mira a suscitare l'interesse per il mare e a portare avanti la conoscenza del mare, dell'equilibrio, della difesa dell'ecosistema marino e della voglia di stare a mare, di vivere il mare, di navigare e di svolgere attività sportive. Ringrazio tutti, la padrona di casa che mi ha invitato come sempre con la dottoressa Lella Battiato noi abbiamo lavorato da tantissimi anni, questa è la quinta edizione del premio mi complimento veramente con lei perché riesce ad organizzare e a far partecipare tutte le varie figure dai docenti, alle dirigenti, alla politica che è fondamentale perché oggi i giovani si devono avvicinare per poter dare un input e conoscere quello che in realtà i politici fanno. Sì, è un'iniziativa lodevole perché senza i giovani non si va da nessuna parte, come diceva il mio collega Rubino. Quindi complimenti a tutti voi per queste iniziative. Io oltre a te Lella ho il dovere anche di ringraziare le dirigenti di questi istituti, i Lions a cui io appartengo. Grazie ancora. Allora, il nostro sindaco di Sant'Agata Ribattiati, Marco Rubino, anche lui sempre vicino, mi dà sempre supporto. Voi più che supporto vi diciamo grazie perché comunque gli obiettivi che cercate, che raggiungete, grazie a Dio, ma veramente grazie a fare questa rete tra istituti, istituzioni, istituzioni anche mediche, perché i ragazzi hanno bisogno di stimoli, stimoli che li portino ad avere il proprio pensiero, a realizzare un'opinione pubblica capace dell'espressione personale, senza perseguire altri strumenti che purtroppo li canalizzano verso azioni un po' poco felici, come definisco io. Grazie per quello che fate per i ragazzi, ma io ricordo sempre che il futuro, grazie a voi, si costruisce giorno dopo giorno, non arriva certamente. Grazie, Lella. Sì, perché con la pace si costruisce, con la guerra si distrugge tutto. Parlavi di concordia e parlavi anche di questo, dell'armonia che è la base di ogni cosa. E questa ci deve essere, laddove c'è armonia, non c'è guerra, si costruisce.